La morte è stata ammazzata da un crollo di piante, pezzi di rami, pezzi di crollo, e tutto questo insieme al Fuso Iroclassico che ha definitivamente chiuso l'esperienza iniziativa di questo posto. Ci sono gli ultimi che tentavano di scappare, probabilmente dicendo le case, perché siamo già su due metri di lavoro. Grazie a tutti.